Più di 38.000 accessi annui, una media di 105 al giorno e di oltre 5 persone all'ora. Sono questi i numeri del pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia registrati nel 2018. Numeri che sono cresciuti rispetto a quando l'ospedale del Valdarno fu aperto nel 2002 di molto. Basti pensare che il pronto soccorso era nato per soddisfare una capienza di circa 70 accessi al giorno. Adesso, appunto, sono 35 in media in più. Un aumento di prestazioni che probabilmente farà decidere per la costruzione di un nuovo spazio, ampliato e moderno, nell'ospedale della Gruccia. Se ne è iniziato a parlare proprio in questi giorni. Ancora stiamo dando una buona risposta. Parlavamo proprio con la dottoressa Matarrese che effettivamente gli spazi cominciano a essere pochi. C'è un'idea di poter fare un nuovo pronto soccorso. Ovviamente, insomma, ci saranno tempi e modi per discutere della cosa, però fin da ora all'azienda io ho lanciato un po' l'idea. Ci stiamo pensando in maniera seria perché il cittadino, soprattutto nei momenti di difficoltà e momenti d'emergenza, deve trovare all'interno della struttura la risposta non solo ai suoi bisogni di salute, ma anche alle sue necessità, diciamo, di essere accolto e essere trattato a 360 gradi nella maniera migliore. Intanto Nocentini stila i dati specifici dell'anno appena passato e il direttore si ritiene soddisfatto del lavoro svolto finora. Il 98% dei pazienti che vediamo vengono trattati dentro questo ospedale, quindi rimangono qui da noi. Ovviamente pazienti che poi vengono centralizzati, quindi su Siena piuttosto che su Firenze, o pazienti che, ad esempio, vanno a fare studio emodinamico per l'infarto ad Arezzo, poi ovviamente hanno la possibilità di rientrare nel nostro presidio una volta che hanno ricevuto il trattamento per il caso, uguale il paziente traumatologico. Per quanto riguarda il reparto della medicina d'urgenza, questo ha, diciamo, movimentato nell'arco del 2018 2.154 pazienti.